Nico possa prendere solo Pokémon gialli e rossi e loro solo Pokémon verdi e azzurri Ma io posso prendere? Cioè tipo io sono la linea azzurra, posso prendere il Rayquaza o io sono i miei? No, anche il Rayquaza, cioè io e lui siamo collegati, siamo in team assieme Quindi Nico qua noi dobbiamo essere un pelo più fortunati, non siamo pariti per niente bene eh Oh ragazzi, dai, due su due Marco No io non ho parole ragazzi, un leggendario verde è un azzurro, cioè veramente guarda Partiamo malissimo Ma sto doppio taglio lui? Marco questo è tuo Sì sì sì, bravo Nico Bravo bravo Ragazzi c'è un muro di bedrock apposta Marci, Marci, Marci fermo Fila subito di là, fila subito di là, ma da Marci Ma guarda te oh, ma guarda te io, ma meno male che mi sono Marci vai subito di là Eh ma uno l'ha preso Non può utilizzarli in battaglia dopo, tranquillo, non può utilizzarli Vieni qua Nico, dobbiamo essere furbi perché li catturiamo la prossima volta Così poi non li possono prendere, li cestiniamo piuttosto Guardate che dobbiamo stare attenti ragazzi qua, perché questi qua sono i furbi Di là c'è il team dei furbi, di qua quelli degli onesti, dimmi campione Ho appena visto un kaioga e prendere e buttarsi giù God, questo sai cos'è, te lo dici il tuo compagno di squadra, vai compagno Ok, come è respawnato, scusa Come è possibile che è respawnato Allora Nico, qua, ok L'ughia non posso prenderlo Ah, ce l'ha rubati Tieni, tieni, tieni Buzzwall Grazie Grazie Blaze Fallon purtroppo E c'è del giallo in Blaze Fallon Nico, che ne pensi? Osservalo Osservalo Vaga, io non ho trovato neanche un Pokémon Ma guarda, loco È nero e blu No, è più, è più nero Ok, ottimo Nico, abbiamo un solo Pokémon leggendario Tu non ne hai trovato nessuno, bisogna che ti impegni L'ho trovato da Pukoko Che vuoi l'hai trovata, va bene Ci può stare, cos'è? Poipol, Poipol, Poipol Per favore, dateci qualcosa di bello Dimmi campione, dimmi Ma il metal lo prendo, c'è un sacco di giallo Lo prendo volentieri Vai, via, vediamo Nico, una gioia Niente Vai, quelli al 45 e poi diventano al 70 No, rimangono al 45 Poi proseguiamo Gazzlord Questa è giallognona un po', dai È un po' giallognona, mi piace Tutto quanto fatto giallo, mi piace Non lo so come si chiama Fatto, fatto Ora, prosegui Sì, giraci Giraci, giraci, va bene Lasciamo Zekra, non fa niente Nico, ho trovato giraci Che comunque è molto giallo Quindi lo possiamo avere con noi in squadra E abbiamo, ti dirò, già 4 Pokémon da utilizzare nella squadra, Nico Io zero Cosa succede, madame Marci? Dici tutto Cosa succede i colori Dove io ho il giallo Sì Giraci, non me l'hai fatto cattore No, era un altro che non ti ho fatto prendere Era un altro Era proprio giraci Non era giraci Me lo ricordo C'è un po' che sceglia per te Prendiamo questo Hazelf che c'ha tutta la tessolina gialla Poi proseguiamo, vediamo Magherna No, non si può prendere tutto quanto bianco Raga, mio tu è verde, giusto? No Non credo proprio Cosa? Eh, no, Nico No, le mani No, le mani sono arancione A me era uscito un arciusso rosso Purtroppo no, Nico Dovevamo bocciare questa idea Non ci possiamo fare nulla Ma magari qualche pokemon giallo Che comunque può essere forte Cosa? Eh, no, Nico Eh, questo è rosso Rosso e giallo La fusione Allora Mi pare un po' borderline Perché se iniziamo a fare come loro Nico È la nostra fine Scusate, Deoxys Che colore è? Ma smettila, va, cretino Vedi, vedi Non si può Ma lui dice così di default Neanche girace, giallo Andiamo avanti, Nico Non utilizziamo le loro tecniche false Andiamo avanti Eh, vabbè Ha entrato Diaga Riescirà anche Non si può Dragonite Lo prendo volentieri Poi Proseguiamo Andiamo avanti Io, Nico Ti dirò Comunque Male che vada Se ammessi bene Cioè Non ti dico che se ammessi male Deviamo completare il team Quindi Almeno altri due pokemon Ci servono Eh, caro Bonnino Ho trovato uno Non li vedo C'è un mag morto Tu dovresti trovare un Groudon, Nico Quello ci servirebbe Però prova Vediamo se lo trovo Uran Suicune Dai Su, vediamo Qua si trovano qualcosa Suicune è bello Perché ha 70 Delle belle mosse Nico, ti prego Trova un Taranitar Ma qua mancano dei Lucky Block Eh, mi piazzo io tranquillo Guarda Ma guarda te questi Ma cosa? Ma cosa? L'unale è viola, vero? L'unale è viola e basta Oh, no Rai Cartana Cartana lo prendo C'è tutte le lame di giallo Io li ho lasciati, ragazzi Comunque mi fido che non venite Comunque ho tre Un'ala nella stessa linea Upa Non si può prendere Upa Mi spiace, bro Però Upa C'è questo rosino rosso Che ti dirò Cioè, ci sta Dai, senti Vai a quel paese Che anche a me Questa cosa me le fa Cosa? No, è marrone, Nico Ma se pure C'è te ne vuoto Dai, mani Te l'ho 75 Eccala quell'altro Ma no È vero, è verde È verde, è verde È vero È vero, è verde Loro sono lamentati Inizialmente anche dei colori Dovevano dirvi I campioncini Perché dicevano No, ma qua non trovi ancora Nessuno Bam Martana Martana è più giallo Bro, guarda Un articulo Quello però non è Ah, sì, che è Ok, via, via, via Via, qua niente Qua niente, qua niente Qua niente Nico Articulo Trovati sto Groudon Latios Darkrai Vabbè Darkrai Ti ricordo che c'era la leggenda di Loco Che c'eravamo Che c'eravamo arrabbiati Perché lo voleva prendere Per la zona rossa piccolissima Vai, proseguo Vediamo qua cosa troviamo Bam, 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 bam Nulla Niente È impossibile Nico Facciamo il cambio per favore Vai tu nell'altra Ma questa è sfortunata No, no, no Con molta calma Gigi Garde Gigi Garde Niki Lego Non si può Non si può prendere Niki Lego ragazzi Non dubito fortemente che si possa prendere Poi apriamo qua Nico, ti prego Nico, qualcosa Apriamone una volta assieme Poi apriamo anche i nostri qua Cos'è? Cos'è? No No, è shiming Non si può Vediamo qua Guardiamoli assieme Con molta calma Analizziamo Perché magari Questo cos'è? È al 41 Mamma mia ragazzi Ma noi non stiamo trovando nulla Niente Nico Ok Qualcuno ha eliminato i Pokémon però Ho aspettato che non aveste niente No, hai fatto bene Hai fatto bene Hai fatto bene Vai tranquillo Vai tranquillo Qua nulla Nulla di nulla Nico Nulla di nulla Non può parlarci Allora Parliamoci Ma ci ho trovato Krauto Ehi Kaiogre Come si chiama? Nico Siamo spacciati Lo sai vero? Allora qui ce n'è uno Vai spacca e gli arriva questo Ok Mamma mia Mamma mia Questo qua Mamma mia Abbiamo ancora una corsia Nico Di qua Possiamo ancora risplendere Qua nulla Con la testa Nulla Nulla Mamma mia Bam 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 Non c'è un leggendario Non è ancora uscito eh Che sia uno eh Uno Ethan E' buono Sì Ok Mamma mia Mamma mia Graudon ti prego Esci Vieni a noi Vieni a noi Graudon Vieni a noi Graudon ti chiamiamo Per favore No non l'abbiamo mai preso Non l'abbiamo mai preso Niente Niente Zoro è mio bellino Niente Niente Si ha messi male Nico Altro che Zoro ha È il mio preferito L'ho preso Nico ha detto che c'è qualcosa di interessante Ho solo lui Però non lo so che statistica abbia Guardalo tu Allora aspetta un attimino Fammi prendere Giraccio Lo scambio perché era un po' scarsino Quindi rimettilo dentro Vediamo se questo Oh oh è decente Eh sono molto buone Guardatelo Ok vediamo questo Oh oh di Nico Ragazzi se è interessante È un'ottima velocità Dai complimenti Nico Ottimo ottimo lavoro Secondo me è veramente potente Vai Marci Lancia pure il tuo Pokémon Vediamo cosa vi siete inventati Con il verde e l'azzurro Vediamo se sono reali Ma Tyranitar comunque ragazzi Un po' troppo forte questo qua eh Però proviamoci No Scusa Ciao Nico Ok ci siamo Vai partiamo Abbiamo Gazzlord contro Tyranitar Beh c'ha il giallo C'ha molto giallo Ma che calo stai dicendo Ma cosa stai dicendo Molto giallo Voi avete Cresselia Voi avete Cresselia Che è un po' borderline Ma dove full Che c'ha tutto il corpo Ah dai siete di clown Siete veramente A parte che Cresselia C'ha tutto la La faccia C'ha tutte le artiglie La faccia gialla Dai su 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 Siete di clown Vai Andiamo avanti per favore Ci muoviamo Mi hai fatto un sacco di danno Nico Eh si è messi male eh Io Molto 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 male Oddio Ma questo stone age Pesante 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 Oserei anche dire Però Tyranitar è fortissimo ragazzi Ma l'abbiamo quasi shottato Lui ci ha quasi shottato anche Ma dovremmo attaccare per primo Nel prossimo round Esatto Ottimo Ok 1-1 eliminato Nico Cartana Cartana Si Cattiva È molto cattiva Molto Però mi dice Tyranitar feinted Ma non mi fa fare niente Ho sedito la tastiera che hai cercato cartana su google Madame Ah Lei non mi scappa Lei non mi scappa Madame Vediamo Cosa inserirà come prossimo pokemon Su 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 Faccia anche in fretta Perché qua il tempo scorre eh Si muova Perché sono un po' in basso la debolezza Anch'io ce l'ho lì Eh si Ok Tandorus Però che ci inventiamo col Tandorus ragazzi Perché non è che abbiamo Tandorus pesante Nico Situazione brutta Situazione veramente brutta E ora Eh È bruttina questa Tapu Koko Vediamo Tapu Koko se Ma non ha mosse Tapu Koko Non ha nulla Non c'è neanche soldi in banca Tapu Koko Tra un po' credo Tapu Koko per favore Io non so cosa fare Ti faccio Amber Eh Non ci stiamo attaccando Tu mi hai attaccato Non mi fa niente Non ti fa vano Dovrò cambiare pokemon Mamma mia Proviamo dragonite ragazzi È l'unica nostra speranza Vediamo dragonite a 69 Se può fare qualcosa di interessante Ok Eliminato Tandorus Ma l'hai sfonnato Vai dragonite credenze Eh Buongiorno signor Dianga Come sta Spero tutto quanto bene Bene Tutto bene Eh vabbè Tutto bene Nico Situazione brutta Situazione brutta Lo ammetto Situazione veramente Guarda che mosti ha il grandissimo No no è molto potente Non lo metto in dubbio Oh Sì si chiama così Oh Però Proviamo magari a fare un critico Magari pixelmon Neanche quello No Però lui non ci ha fatto tanto danno Muore tecnicamente prima il di Alga di Marci Quindi bene per noi campioncini Sui Kun Non ha mosse Non ha mosse Come non ha mosse Sono mosse con i 40 Eh Nico si è messi male Perché non ha più mosse decenti su Sul mio Non ha più mosse decenti No Non si è neanche bruciato ovviamente Uh sono rimasto con 10 di vita Proviamo a fare weatherball Mamma mia Sì ne ho ancora due in realtà io Però uno non ha mosse Quindi in realtà ne ho solo uno A me il metal cos'è l'aga? Eh c'ha tutto quanto l'oro attorno qua del giallo Cioè non è Meglio di così Oh ma i pokemon non ce ne sono gialli Dobbiamo fare Quello che possiamo Ma ora mi è uscito zardo A te Volcano Volcano da quando è giallo È rosso È rosso per me Eh ma non c'erano Non c'era Non è uscito Io non so che cosa soffro Non soffre nulla me il metal Lei è ineluttabile Non soffre niente me il metal Vai Vediamo cosa si inventa Madame Marci Mi hai tolto 11 Ti ho tolto un po' di più a quanto vedo Giusto? Ora un po' la faccio ravitalizzante Sono troppo Non mi sembra che tu possa farlo Madame Marci Oppure mi è stato un colpo Ah che vita veramente difficile Ok eliminato No Ma di chi è quel necrozma scusate È mio lascialo stare Ah ok ok va bene Ottimo Megapunch per favore vuoi colpire? Ok eliminato Marci ti rimane un pokemon sbaglio Due Due Ma come due? Siamo spacciati Nico eh Non attacca neanche Siamo proprio spacciati Siamo proprio finiti È il tuo ultimo questo qua? Ma ormai sì Cioè tecnicamente sì Ok non attaccato? Sì No ce l'hanno fatta Nico Ho Tapu Koko che è a quanto apprendiamo Ok l'abbiamo eliminato L'abbiamo eliminato con Electro Ball Siamo uno a uno quindi Questa è veramente una brutta situazione No Marci ma per te è sempre bella Io non ho mosso Eh eh perché io Ho una mosso questa qua è basso Mi fai più danno a te mi fai eh Eh sì Sì Mi fai più danno a tu Oddio no Oh No mi fai più danno a tu Attenzione Deve solo congelarsi il tuo Non è possibile No hai vinto Attenzione Rimane con uno di vita Di vero che non congelarti E la velocità E vince E vince lui Nico io non ho veramente parole Avevamo vinto Marco ti piace casa mia Posso dire una cosa Non sono molto contento di questa cosa Perché ai vostri Pokémon non so Io ne ho lasciati un bot Che avevano un po' di blu Così I miei sono full blu I vostri non erano full gialle Ciao Ragazzi nei commenti Dite voi cosa ne pensate di questa cosa Marci ha lefftato per protesta Ciao Ciao E per la gente che